Bella zia, apriamo insieme le uova degli influencer, mi manca Federico Fashion Style ma per il resto ci abbiamo tutto Allora, briletta fatta in casa, è molto buono la cioccolata dell'uovo Guarda, come regalo c'era una saca poche, veramente ricercato come regalo, elettro Lamborghini invece Senti, la cioccolata qua era molto meno buona e il regalo dava fastidio alle dita, era brutto, no Chiara Ferragni però, che viene dopo questa clip, oh Chiara Ferragni sì La cioccolata era buona, la sorpresa era un po' inutile, ma la cioccolata era proprio buona e daje Two players, one console, qui pure, ma arrivato rotto, mi dispiace La sorpresina era molto carina, la cioccolata abbastanza dolce e preziosa da fare cose daje Lion, Lion la cioccolata mi apprecia un po' meno, però la sorpresa era un po' più ciotta Non bello quanto i me contro re, oh che soddisfazione, guarda ci stava pure il cuscino nell'edizione relax Ho preso sia quella piccola che quella grande, il campanino per la bici e l'astuscio Ma che vuoi di più della vita, la cioccolata era pure buona, daje tutta